Con l'operazione Mazzetta Sicula, la procura di Catania e la guardia di finanza etnea ha portato a galla un giro di mazzetta e corruzione che coinvolge imprenditori ma anche dirigenti pubblici, tra i quali un dirigente dell'ARPA. Fatti delittuosi perpetrati negli anni 2018 e 2019 connessi all'illecita conduzione della discarica di Lentini, la più estesa della Sicilia, gestita dalla Sicula Trasporti della famiglia Leonardi. Sono nove in tutto le persone sottoposte a misure cautelari, due le persone arrestate, tre sono finite domiciliari e quattro sottoposte alle misure cumulative dell'obbligo di presentazione alla procura generale di dimora. Gli arrestati dovranno rispondere dell'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione continuata e rivelazione di segreto d'ufficio, nonché per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Gli inquirenti hanno scoperchiato un illecito smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da oltre 200 comuni siciliani convenzionati con la Sicula Trasporti. Un quantitativo enorme di rifiuti, gestito da una società che ha un fatturato anno di circa 100 milioni di euro e oltre 120 dipendenti, che finiva in discarica senza subire alcun trattamento preliminare, essenziale per favorire l'individuazione dei materiali non ammissibili in discarica o di rifiuti da destinare a operazioni di recupero. La società catanese usufruiva poi della collaborazione di altre tre aziende, la Sicula Compost, la Gesac e l'Aidile Sud. Il principale indagato è Antonino Leonardi, noto come Antonello, quale amministratore di fatto della Sicula Trasporti e della Gesac, nonché amministratore di diritto della Sicula Compost, il quale è stato condotto in carcere. Il sistema illecito orchestrato da Antonino Leonardi si reggeva su due pilastri. Il pagamento di tangenti a soggetti ritenuti dal corruttore, al di là del ruolo assegnato dall'amministrazione di appartenenza, in grado di influenzare la concessione di autorizzazioni amministrative e di pilotare, preventivandoli, i prescritti controlli ambientali e la fasulla rappresentazione della movimentazione dei rifiuti al fine di garantire un'apparente osservanza delle norme. Una contabilità assolutamente non corrispondente alla reale entità e tipologia dei rifiuti conferiti in discariche trattati nell'impianto di compostaggio. Nel corso dell'indagine è emersa una relazione finanziaria tra il gruppo imprenditoriale dei Leonardi e alcuni esponenti del clan Nardo, i quali Antonino Leonardi faceva pervenire durante le festività, somme incontanti di 5.000 euro. Dura la risposta della politica siciliana, che ha reagito con stupore e indignazione. Il governatore Musumeci ha affermato che la regione siciliana è parte lesa e anche per questa ragione si costituirà parte civile. Inoltre Musumeci è anche spinto per l'approvazione all'arse della legge sui rifiuti e per Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia, l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Catania sulle discariche della Sicola Trasporti conferma la bontà del lavoro svolto dalla Commissione Antimafia con la recente relazione sul ciclo dei rifiuti.